in mezzo alla pista, toglietemi, toglietemi allora esibizione tuba al femminile una coreografia di gestualità donna, timba e contaminazione di afrorumba, quindi ci sarà da vedere a voi ragazzi il gruppo donne della scuola San Fernando vai ragazzi entrate un forte applauso forza ragazzi forza ragazzi forza ragazzi forza ragazzi forza ragazzi forza ragazzi per la sua ragazzi per la sua ragazzi per la sua ragazzi forza ragazzi forza ragazzi per la sua ragazzi per la sua ragazzi per la sua ragazzi per la sua per la sua ragazzi O moro vanno a nostri I vanno a nostri E io Tiutela I vanno a nostri I vanno a nostri I vanno a nostri I vanno a nostri I vanno a nostri